Federico Tozzi è oggi considerato uno dei principali narratori del novecento dico oggi perché in vita non fu particolarmente apprezzato morì di fatto misconosciuto anche molto giovane a 37 anni a causa di una polmonite perché era di salute piuttosto cagionevole quindi la brevità della sua vita non gli consentì di godere del successo di critica e di pubblico che avrebbe meritato è successo che invece gli viene riconosciuto successivamente che tuttora continua ad essere riconosciuto nel senso che Federico Tozzi è un autore che continua ad essere anche oggi scoperto e riscoperto questo perché era particolarmente avanti anche per il periodo in cui si colloca la sua esperienza letteraria infatti la sua produzione letteraria si colloca nel primo ventennio del novecento e Federico Tozzi nasce a Siena in una famiglia in cui ha una madre molto mite e un padre invece molto forte schiacciante come già avevamo visto nell'esperienza di Svevo questa figura paterna molto invadente incombente potente influisce tantissimo sulla vita psichica e sulla vita reale e letteraria di Federico Tozzi infatti i personaggi di Tozzi sono come lui deboli fragili inetti come lo erano i personaggi dell'opera di Svevo e tra l'altro le opere appunto di Federico Tozzi oggi vengono considerate come importanza e come livello letterario proprio alla stregua delle opere di Svevo e di Pirandello sono considerate molto moderne e molto all'avanguardia dicevo il rapporto conflittuale con la figura paterna e al centro proprio della sua sofferenza nella vita reale e della sua creazione letteraria il padre appunto era molto forte era molto abile negli affari scusate non aveva nessun interesse a che questo figlio debole cagionevole delicato studiasse e sviluppasse l'interesse per la letteratura. Vivendo comunque a Siena Federico da giovane si innamora della nipote dei contadini che gestiscono il podere paterno e da questo suo interesse sentimentale nasce il suo primo romanzo con gli occhi chiusi dove gli occhi chiusi sono una metafora del bisogno di fuga dalla realtà del bisogno di cecità del suo protagonista un tema ricorrente anche nei romanzi successivi. Federico Tozzi cercherà di sottrarsi all'oppressione paterna dedicandosi per un certo periodo a un lavoro come impiegato presso le ferrovie sempre in Toscana un'esperienza che per lui sarà molto infelice successivamente si sposa e si occupa per un periodo del podere paterno e da questa esperienza nascerà il suo secondo romanzo il potere il podere oggi i suoi romanzi sono considerati tutti appunto come dicevo delle opere molto importanti e dei veri e propri capolavori con gli occhi chiusi e il podere sono poi romanzi autobiografici di fatto successivamente Tozzi si sposterà a Roma e avrà una produzione letteraria molto fervida farà anche il giornalista si dedicherà quindi a tempo pieno alla scrittura e qui nasce quello che secondo molti è la sua opera più matura più riuscita tre croci perché è un romanzo per la prima volta non autobiografico allora dicevo che la caratteristica che accomuna i suoi romanzi e che diciamo rappresenta il motivo di interesse anche oggi nei riguardi della sua opera è il fatto che Tozzi passa diciamo da un esordio quasi verista ancora molto realistico come era dell'opera di Verga per arrivare invece a un'esperienza molto moderna tipica della letteratura del novecento in cui esprime molto bene il disagio psichico ed esistenziale che è stato espresso anche da Svevo e da Pirandello dicevo i suoi personaggi sono degli netti l'enettitudine è la caratteristica di tutti i suoi protagonisti e il suo realismo è di fatto un realismo visionario allucinato alcuni parlano proprio di esperienza espressionista questo è uno dei motivi per cui c'è ancora oggi un grande interesse per la sua opera peraltro Federico Tozzi era molto interessato alla psicologia non conosceva Freud ma ha trattato certi temi da autodidatta e molto interessante anche a livello di linguaggio e di stile è il fatto che tutto nei suoi romanzi partecipa di questa realtà allucinata angosciosa persecutoria sia il paesaggio naturale sia quello della città proprio anche di Siena che è protagonista delle sue opere sono a loro volta descritti come paesaggi schiaccianti stretti soffocanti il protagonista si sente sempre perseguitato braccato seguito ed è il suo personaggio i suoi protagonisti sono sempre pieni di paura e da questa paura possono scappare o attraverso appunto la cecità il fatto di non vedere più di essere avvolti come in una nebbia che permette loro di proteggersi o dalla fuga nella natura si ritrova quasi un rapporto come quello dell'infanzia con la natura in una sorta di felice regressione oppure la violenza tratteremo poi in altro video la trama dei tre romanzi delle tre opere principali che sono appunto con gli occhi chiusi il podere tre croci e vedremo come la trama non è importante quanto lo è invece il realismo psicologico e il dramma interiore la somma di fantasmi interiori che caratterizzano le vite dei suoi protagonisti e vedremo come la trama non è importante